Ciao a tutti, in questa lezione vediamo da pagina 65 a pagina 67 della lezione 6. 65 però siamo arrivati all'esercizio 5, intanto correggendo i compiti con i vostri compagni abbiamo visto che scala è di treppe, scala fissa, invece di lighter è scala pioli invece la scala mobile, dato che è una scala fissa che però si muove, quindi interna che si muove, è una roll-treppe. Adesso vediamo il dialogo. Allo Rita, hör zu und formuliere dann sezze, quindi ascolta e poi formula le frasi. Allo Rita, komm rein und wie geht's dir gut danke? Rita, wie gefällt dir unsere neue Wohnung? Nicht sehr groß aber hell. Ciao Rita, vieni dentro. E come va? Bene, grazie. Rita, ti piace il nostro nuovo appartamento? Non molto grande, ma luminoso. Mir gefällt, gefällt è come mi piace, mi piacciono, quindi in base a quello che abbiamo dopo a nominativo avremo gefällt oppure gefallen. Mir gefällt deine Wohnung, quando abbiamo il soggetto singolare. Mir gefällt deine schuhe, gefällt perché è il soggetto appurale. E Rita diceva, vi gefällt dir, altrimenti potremmo trovare tranquillamente da solo gefällt dir. Quindi, Frau Koch, come saluta l'amica e le chiede come sta? Allo Rita, wie geht's dir? L'amica risponde gut danke. E come chiede all'amica se le piace l'appartamento? Wie gefällt dir? L'amica come risponde? Come chiediamo al compagno se gli piacciono la mia camera, la mia casa, il tuo giardino, il mio giardino, il mio soggiorno, il mio computer? Allora useremo gefallen perché abbiamo tanti soggetti. Quindi gefallen dir, mein Zimmer, mein Haus, mein Garten, mein Wohnzimmer, mein Computer. Adesso a pagina 66 abbiamo mini dialoghi, però noi vediamo solo la domanda e poi i vari aggettivi. Wie gefällt dir, mein Wohnzimmer, quindi ti piace il mio soggiorno, sehr schön, ganz schön, aber nicht sehr groß, nicht so gut. Quindi, ti piace il mio soggiorno, molto bello, abbastanza bello, ma non molto grande, nicht so gut, non mi piace così tanto. Adesso vediamo gli aggettivi positivi e quelli negativi. Quindi, fantastisch, oppure potremmo anche vedere wunderbar, meraviglioso, sehr schön, molto bello, so gemütlich, così comfortevole, schön grosso, bello grosso, schön grosso und hell, bel grosso e luminoso, so praktisch, così pratico. Negativi, così abbiamo, nicht so gut, cioè non mi piace così bene, nicht sehr hell, quindi non mi piace tanto. Potremmo anche avere brutto, nicht sehr hell, non molto luminoso, potremmo avere so contrario, quindi dunkel, che buio, nicht sehr groß, non molto grande, ma anche so contrario, che è klein. E poi, ganz schön, aber klein, abbastanza bello, ma piccolo, ganz grosso, aber nicht sehr gemütlich, abbastanza grande, ma non molto comportevole. Dopodiché, nell'inizio del B, abbiamo la domanda, wo in Compte das Sofa? Verso dove va il divano? E qui abbiamo das Bett, che è il letto. Der Estisch, però c'è anche der Estisch, che è il tavolo da canso. Der Teppisch, che è il tappeto. Dopodiché, con Schrank, ne abbiamo tre, perché vi ho aggiunto uno, che è der Kühlschrank, che è il frigorifero. Tiff, Kühlschrank, Tiff è profondo. Kühl, fresco, quindi freddo nel profondo, quindi tanto freddo. Schrank, quindi armadio, fresco, tanto fresco, quindi freezer. Der Kleider, Schrank, che è il guardaroba. Quindi armadio per i vestiti. Der Gessel, che è la poltrona. Di micro-velle, micro-onde. Infatti abbiamo di velle, che è l'onda. Das Sofa, che è il divano. Oppure di couch. Die Stelampe, che è la lampa da stelo. Der Fernseher, che è la televisione. Die Stühle, che è il frale di der Stuhl, che è la sedia. Der Kleiderschrank, das Bücherregal, che è la libreria. Der Geschirrspüler, che è la basketiglia. Oppure cambiamo genere, perché aggiungiamo un pezzo. E diventerà die Geschirrspüler machine, che è la basketiglia. Der Schreibtisch, che è la slovania. Però possiamo anche trovare der Nachttisch, che è il tavolo da notte, che è il comodino. E poi di comode, che è la cassettiera. I set. E poi abbiamo la piantina, dove abbiamo il balcone, che è il balcone. Buon Zimmer, Schlafzimmer, Kindersimmer, che sono staggiorno, camera da letto e camera dei bambini. Küche è la cucina. Bath, bagno. Flur e corridoio. Nel set, Hör zu und Sprich nach, potete riascoltare i vari vocaboli. E l'otto, invece, è un getechnissspüler, quindi un gioco di memoria. Schau dir das Bild eine Minute lang an. Mach dann das Buch zu. Nenn so viele Dinge wie möglich. Quindi guardati per un attimo, per un minuto, l'immagine. Poi chiudi il libro e nomina così tanti oggetti possibile. Nell'esercizio 9 cosa abbiamo? Molto semplice. Gettiamo sul nominativo e sulla negazione del sostantivo. Abbiamo Ich frage, du antwortest. Ist Nummer 5 ein Sessel? Ja, Nummer 5 ist ein Sessel. Quindi, Nummer 5 è una poltrona? Sì, Nummer 5 è una poltrona. Però sentiamo al negativo. Quindi guardiamo il 4. Ist Nummer 4 ein geschirrspüler? No. Nein. Nummer 4 ist kein geschirrspüler. Nummer 4 ist ein kühlschrank. Quindi il numero 4 è un frigorifero. E non è una lavastoviglie. In 10 noi avevamo già visto i pronomi personali al nominativo. Quindi Der, das, sofa diventa es. Der, dies diventa er. Die, lampe diventa si. Però adesso possiamo vederli, fare un passettino avanti e vederli all'accusativo. All'accusativo, das, die, das e die non cambiano. Quindi rimangono sie, es e sie del plurale. Quello che cambia è l'accusativo del maschile. Quindi den che diventa in. Qui abbiamo diversi aggettivi. Quindi chic, elegante, originale, originale. Schön, bello, nüclich, utile, altmodisch, fuori moda, praktisch, un praktisch, pratico, non pratico. Bequem, comodo, un bequem, comodo, un bequem, scomodo. Gross, grande, moderno e moderno. Vediamo un esempio di dialoghi che potete fare guardando i vocaboli di pagina 66. Wie findest du den Zessel? Ich finde in zerbequem. Quindi come trovi la poltrona? Rispondiamo, sostituendolo in Zessel con il pronome. Ich finde in zerbequem. Und wie findest du di ste lampe? Ich finde sie moderna. E come trovi la lampada? La trovo moderna. Compito, cosa potreste fare? Provate a descrivere la vostra camera preferita. E quindi dire la mia camera preferita è perché. Come nell'esempio che vi ho fatto. Nel mio esempio è Mein Lieblingschimmer ist mein Arbeitschimmer, weil es viele Flanschen gibt. Quindi la mia camera preferita è il mio studio perché ci sono tante piante. Abbiamo il verbo al fondo. E poi provare a descrivere quello che c'è e skip usando magari i numeri. Ci sono il lessico dell'arredamento ad esempio. Ci sono due tavoli, ci sono due sedie. In basso alla camera. E poi fare l'esercizio 10 della lezione 6. Grazie mille. Buona giornata.